Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In a 12,3 km di coda tra la barriera di Rosignano e l'allacciamento per l'Aurelia in direzione Rosignano per traffico intenso. Fino a 1 in direzione Bologna e ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto tra la variante di Valico e Aglio per lavori, uscita consigliata provenendo da Firenze, Badia. Sulla FIPILI chiusa la rampa di accesso allo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia chiusi in entrata e uscita gli svincoli di Follonica Nord e Gavorrano in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!